Aziende in crescita significa aziende sane, che stanno guadagnando, che teoricamente hanno bisogno di personale e che teoricamente pagano per il personale di cui hanno bisogno. Presto capirete perché ho detto tutti questi teoricamente. Io sono Valerio Villani e ti do il bentornato sul mio canale e in questo nuovo video per la rubrica Lavoro da sogno, la rubrica dedicata esclusivamente a contenuti di orientamento e di crescita professionale. L'obiettivo del video di oggi è andare a commentare insieme la lista delle 15 aziende in Italia più in crescita, stilata dal Sole24oreLab, e a scoprire insieme quali sono, cosa fanno e soprattutto, come sempre, obbligo di questo canale spingerci un po' oltre, quindi andare a scoprire anche le risorse che stanno assumendo. Considerate che di questa lista conoscevo pochissime aziende, quindi entrare a conoscenza di opportunità di lavoro in aziende in crescita conosciute da poche persone, significherebbe scavalcare la concorrenza. Sarebbe molto interessante. Come sempre, prima di iniziare voglio invitarti a lasciare un like e iscriverti al canale se non l'hai ancora fatto, attivando la campanellina. Per te sono attività gratuite e per me sono fondamentali per supportarmi in questo lavoro di divulgazione. Inoltre, per coloro che hanno bisogno di un supporto per la ricerca di lavoro, colloqui, linkedin e sviluppo carriera, ti ricordo che in descrizione trovi sempre tutte le mie risorse, sia gratuite, come la newsletter che utilizzo per distribuire pdf e materiale didattico, come il listone delle domande al colloquio o la salary guide, che presenta tutti i lavori presenti nel nostro mercato di lavoro e le relative retribuzioni. E poi ci potete trovare anche i servizi premium, come la possibilità di prenotare incontri di consulenza direttamente con me, i miei corsi e la Career Academy. Detto questo, siamo pronti per iniziare con la lista delle 15 migliori aziende più in crescita in Italia, stilata dal sole 24 ore lab. Andiamo a vedere un po' di cosa si tratta. Raga, vi dico che io uno sguardo già gliel'ho dato e... non ho parole. Lascerò a voi i giudizi. Al quindicesimo posto di questa classifica troviamo C2R Energy Consulting, specializzata in servizi di consulenza manageriale, che ha avuto un incremento del proprio fatturato nell'ultimo triennio del 203%, passando da 112.000 euro di fatturato annui ad oltre i 3 milioni di euro. Sul loro sito non è presente una sezione Carriera e Lavora con noi e sembra non avere offerte di lavoro attive. Consiglio dell'esperto in questo caso. Cerchiamo l'azienda su LinkedIn, andiamo nella sezione Persone, vediamo se c'è qualche HR, qualche linea tecnica, qualunque persona possa assumere nuove risorse, colleghiamoci e monitoriamo la situazione. Vi spiego tutto questo processo nel video che vi linko qui sopra. Al quattordicesimo posto troviamo Eva Consulting SRL, specializzata in consulenza manageriale, con un increase nell'ultimo triennio del 205%. L'ultimo bilancio depositato presenta un fatturato di 3.600.000 euro. Anche in questo caso non c'è una sezione Lavora con noi. Raga, lo so, è uno schifo vedere aziende in crescita che non abbiano una sezione Lavora con noi, che non ci tengano ad attrarre talenti, però la situazione è questa. Al tredicesimo posto troviamo Salabam SRL, azienda operante nel settore hospitality e viaggi, che ha registrato un increase del 205% di fatturato, fatturando oltre 11 milioni. Nemmeno questa azienda presenta la sezione Lavora con noi. Stesso discorso per il dodicesimo posto, nel quale troviamo Pace SRL, marketplace del settore automotive, con un increase del 217% del fatturato. Andando avanti, poco prima della top 10, all'undicesimo posto troviamo Nativeri, operante nel settore marketing e pubblicità, che ha registrato un increase nell'ultimo triennio del 222%, con un fatturato che si è attestato oltre i 4 milioni. Anche qui nessuna posizione aperta sul sito, quindi discorso valido per tutte queste altre, guardiamole su LinkedIn perché se stanno crescendo prima o poi metteranno degli annunci, quindi è il nostro dovere tenerle d'occhio. Considerate che questa stessa lista del Sole 24 Ore l'anno scorso presentava aziende come Booleans Careers, come Limiti, quindi tutte aziende che poi effettivamente sono diventate aziende grosse e strutturate che hanno assunto tantissime persone. Pertanto è mio compito comunicarvele e pertanto è vostro compito tenerle d'occhio perché sicuramente qualcosa si muoverà. Queste liste complete che vengono stilate generalmente presentano 50 aziende e come sempre ve le lascio tutte in descrizione. Ad aprire la top 10 troviamo Lee Company Società Benefit, operante nel settore food specializzato sul commercio di acqua, con una crescita del 223% e un fatturato di oltre 3 milioni e mezzo. Andando avanti, al nono posto troviamo Main Solutions, operante nel settore energy, con un increase del fatturato degli ultimi tre anni del 224% e un fatturato totale di 43 milioni. Qui abbiamo una sezione Careers che si chiama Cresci con Noi, un nome un po' terrificante, però almeno un minimo di impegno c'è. All'ottavo posto troviamo Bit Mobility, con un increase del 233% e un fatturato di 7 milioni. Operante nel settore information technology e mobility, anche qui niente annunci, ma come le altre arriveranno sicuramente nel corso di quest'anno. Al settimo posto troviamo Energia Locale, operante nel settore energy, con un increase del 244% nell'ultimo triennio e un fatturato che oggi si aggira oltre i 5 milioni. Loro hanno finalmente la sezione Careers, Amen, sono in continua ricerca di figure sales e vendita, quindi datevi un'occhiata. Al sesto posto, poco prima della top 5, troviamo Green Feed SRL, operante nel settore commercio all'ingrosso, con un increase del 248% e un fatturato di 9 milioni di euro. Anche qui non c'è una sezione Lavora con Noi. Ad aprire la top 5 al quinto posto troviamo Business Innovation Lab, nota come OPIN, con un increase del 273% e un fatturato di quasi 40 milioni di euro. È una fintech specializzata in servizi finanziari e assicurativi che al momento è alla ricerca di figure in ambito Information Technology. Al quarto posto delle aziende più in crescita del 2024 troviamo Oceania SRL, con un increase del 298% e un fatturato pari a 18 milioni e 300 mila euro. L'azienda è specializzata in costruzioni, sul sito non è presente una sezione Careers, probabilmente perché per l'assunzione di risorse si sta affidando ancora alle agenzie interinali. Maledette agenzie interinali. Sul gradino più basso del podio ad aprire la top 3 troviamo Golfo dei Sogni, specializzata in hospitality e viaggi, con un increase nell'ultimo triennio del 328% e un fatturato di oltre 8 milioni. Qui finalmente troviamo una marea di posizioni aperte e per tantissimi ruoli diversi. Complimenti a loro. Al secondo posto troviamo BidBerry, operante nel settore marketing e advertising, con un increase degli ultimi tre anni del 424% e un fatturato di 14 milioni e mezzo. Anche qui possiamo trovare qualche posizioncina aperta. E al primo posto, con un increase del 460% e un fatturato di oltre 80 milioni, troviamo Parcop SRL, nota come We Automation. Un e-commerce che sta crescendo tantissimo, specializzato in prodotti industriali. Raga, questa azienda crescerà tantissimo, quindi tenetela d'occhio, monitoratela, perché sono sicuro che metterà degli annunci di lavoro. Ok, per questa lista è tutto. Abbiamo visto che ci sono molte aziende in crescita che ancora non stanno curando le proprie attività di employer branding, che ancora non hanno pubblicato annunci. Io vi dico e ve lo continuo a ripetere, tenetela d'occhio perché sicuramente pubblicheranno annunci da qui a qualche mese. L'obiettivo infatti dei video che creiamo su questo canale è quello sì di fare orientamento professionale, ma soprattutto di anticipare quelli che possono essere un po' di trend di mercato. E oggi abbiamo scoperto tantissime aziende che verosimilmente, come nel caso di Boolean o Illimiti, potranno diventare delle vere e proprie realtà del nostro mercato del lavoro. E quindi, anche oggi, un buon video portato a casa. Condividete questo contenuto e il mio canale con amici, amiche, colleghi e colleghe che possano realmente averne bisogno. E per il video di oggi è tutto. Io vi ringrazio per avermi ascoltato. Fatemi sapere nei commenti la vostra opinione su queste classifiche e su queste aziende. E... alla prossima!